Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 68esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando dei pacchetti in formato snap, che sono amati e odiati a seconda degli schiaramenti della fazione a cui appartenete. Qualche settimana fa vi avevo parlato della decisione del team di Linux Mint di vietare l'installazione dei pacchetti in formato snap su Linux Mint 20. Vietare in che senso? Nel senso che praticamente ogni qualvolta andavamo a installare snapd su Linux Mint 20, bene che succede? Succede che l'installazione di questi pacchetti, del pacchetto snapd e di conseguenza dei pacchetti in formato snap, viene impedita perché è stato aggiunto un file di preferenze per apt che breaklista l'installazione di snapd. Se non abbiamo snapd non possiamo avere i pacchetti in formato snap. Il file in questione può essere modificato e su Marcos Box trovate una guida che vi spiega come modificare quei file o rimuoverlo completamente a seconda delle vostre preferenze. Una volta fatto sarà possibile installare snapd su Linux Mint 20 e installare tutti quanti i nostri applicativi in formato snap. Ma passiamo alle cose brutte da parte dei pacchetti in formato snap per così dire. Con uno degli ultimi aggiornamenti di Ubuntu 20.04 l'Ubuntu software si è trasformato definitivamente nello snap store. Era stato già annunciato lo scorso mese di marzo l'intenzione di propinare lo snap store come store ufficiale di Ubuntu. Bene, questa cosa si è concretizzata con l'ultimo aggiornamento di Ubuntu software che praticamente viene rimosso dal sistema e al suo posto viene installato lo snap store. Qual è il problema di tutto questo? Succede che la vecchia versione dell'Ubuntu software che era presente su Ubuntu 20.04 sul listo di installazione e che era presente anche nelle scorse settimane, che cosa vi consentiva di fare? Vi consentiva di scegliere se installare un applicativo dai repository di Ubuntu oppure dallo snap store. Quindi potevate scegliere direttamente dallo store di Ubuntu. Questa cosa non è possibile con l'applicazione snap store che adesso trovate a seguito dell'aggiornamento dei pacchetti snap su Ubuntu 20.04. Significa che adesso praticamente questo applicativo che viene preinstallato ci consene di installare soltanto gli applicativi presenti sullo snap store. Fra l'altro questa versione attualmente rilasciata dell'applicazione snap store è anche castrata perché non consente di poter installare i vari canali di sviluppo di un pacchetto in formato snap. Praticamente, sapete bene, il pacchetto in formato snap vi consentono di poter installare i canali stabili, i canali di candidate, i canali beta, i canali edge a seconda delle applicazioni. Questa possibilità non c'è all'interno dello snap store, dell'applicazione snap store, ma è presente tuttavia nella vecchia versione dell'Ubuntu software. Quindi che hanno fatto un passo avanti e dieci indietro con questa decisione. Fortunatamente è comunque possibile reinstallare Gnome software e poter beneficiare della possibilità di installare applicativi sia da repository che da snap store. E oltretutto, grazie a Gnome software, è possibile per i pacchetti in formato snap selezionare quale canale vogliamo andare ad installare. Preambolo lunghissimo, spiegazioni lunghissime. Andate a leggere il blog, trovate le istruzioni, trovate maggiori informazioni al riguardo e trovate appunto le informazioni su come installare Gnome software. E a mio avviso questa è una merita, un bip, vi metto un bip lunghissimo, da parte di Canonical. Perché? Perché è un tornare indietro, è un voler propinare per forza gli applicativi in formato snap. Ed è una cosa, a mio avviso, sciocca da fare per una LTS. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se avete aggiornato anche voi il sistema e vi siete ritrovati soltanto con lo snap store a posto dell'ubuntu software, se avete inveito nei confronti di Canonical come me, o invece a voi sta bene così. Sì, sono un utente che apprezza gli applicativi in formato snap. E ho tantissimi applicativi in formato snap sull'ambi Ubuntu 20.04. installo ad esempio Gimp dallo snap store, installo Inkscript, installo Blender, Kdenlive, installo tantissimi applicativi dallo snap store, però a mio avviso è buona cosa avere la possibilità di scegliere se installare da interfaccia grafica un applicativo dallo snap store oppure dai repository di sistema. perché magari io sono un utente che fa utilizzo dei plug-in di Gimp, vado per installare Gimp dallo snap store, posso installarlo soltanto nel formato snap e mi ritrovo nell'impossibilità di utilizzare i plug-in. Inizio a cercare sui forum, inizio a invegliere contro i vari blog che trattano l'informazione dicendo a me non funziona quella guida che hai postato, e perché hai postato, come hai installato il pacchetto, l'hai installato l'altra, e ma a me si installa solo così, cioè, tutti i casini che derivano da questa scelta nefasta da parte di Canonical. Canonical questa volta non ti appoggio per niente. Cambiamo comunque argomento, passiamo a un argomento grave, per sua natura, che cosa è successo? È successo che negli Stati Uniti Facebook ha aiutato l'FBI a catturare un predatore sessuale che è agito indisturbato su web, forte dell'anonimato garantito da Tiles, che è una distribuzione Linux orientata alla sicurezza, orientata all'anonimato, e come l'ha fatto? Ha commissionato Facebook ad una società terza lo sviluppo di un exploit in grado di sfruttare una vulnerabilità di Tiles, e questa cosa ha consentito praticamente agli inquirenti, all'FBI, di riuscire a risalire avere un indirizzo IP del soggetto incriminato, e quindi di riuscire ad acciuffarlo. Sì, è una cosa positiva, perché comunque dimostra l'attenzione che le società danno nei confronti di queste tematiche, quindi aiutano gli inquirenti, aiutano a mantenere l'internet un posto albergo, un posto libero. La cosa brutta, la stoppiatura di queste, è che Facebook non ha mai notificato la falla di sicurezza agli sviluppatori di Tiles, che solo grazie ai media hanno potuto apprendere della vicenda e non sanno attualmente quale vulnerabilità sia stata utilizzata, dove sta il codice incriminato che è possibile sfruttare. Quindi da una parte c'è una bella notizia che Facebook ha aiutato gli inquirenti per fermare questo sporco guido, e non mi fate aggiungere altre parole, però c'è anche questa cosa che è brutta, perché non ha fornito informazioni agli sviluppatori di Tiles e di fatto ha lasciato esposti altri tipi di utenti che utilizzano Tiles per garantirsi l'anonimato, perché magari vivono in azioni dove c'è vigile la censura e quindi lo fanno per utilizzare quella distribuzione non a fini irrecite, ma a fini prettamente legali, passatevi il termine. Comunque, vedremo poi nelle prossime settimane se emergeranno maggiori dettagli. Un argomento che nelle ultime settimane sta imperversando l'opinione pubblica, sta scatenando dibattite e polemiche in tutto il mondo, riguarda l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano, che è stato ucciso negli Stati Uniti da parte di un poliziotto durante un, tra virgolette, tentativo di cattura. Ci sono poi nate ulteriori protesi, ci sono stati sconti, ci sono stati ulteriori morti, recentemente c'è stato anche un altro caso di un altro afroamericano che è stato ucciso, sparato alle spalle, mentre cercava di scappare da una cattura. E vabbè, brutto e vicente. Però, a seguito di tutti questi tumulti, diverse società che lavorano anche nel campo dello sviluppo software hanno deciso di rimuovere tutti quanti i riferimenti potenzialmente razzisti e non inclusivi dei nomi dei loro prodotti. Le ultime due aziende del giro in tal senso sono Google e Microsoft, che hanno deciso rispettivamente di rimuovere la terminologia Master Slave da Chrome e Github. Perché? Perché la terminologia Master Slave, quindi padrone, schiavo, rimandava al concetto di schiavismo nella testa e quindi hanno deciso di eliminarlo completamente. Io non trovo una cosa del genere sensata, perché tali termini comunque venivano utilizzati in un contesto, comunque avevano un ruolo perché? Perché si era certo di utilizzare quei termini. Io personalmente non ho mai pensato allo schiavismo inteso come schiavismo, come oppressione, quando leggevo quei termini all'interno del codice, però hanno deciso di ripulire tutto e questa deciso non ormai è stata presa. Il termine Master sparirà dalla terminologia usata per indicare il ramo di default, quindi di Google Chrome, che si verrà sostituito in Main. La stessa cosa verrà operata all'interno del codice di Github. Fra l'altro, la stessa proposta di modifiche è stata richiesta anche da uno degli autori di OpenZFS, che tramite una pull request su Github ha chiesto la rimozione, ove possibile, della terminologia Slaves, sostituendola con Depends. Io trovo che questa non sia una battaglia da combattere, però ho visto alcuni commenti su Marcosbox, ma ho visto anche alcuni commenti di persone che sono d'accordo, anche se è una cosa di poco conto, però in linea di principio, secondo molti di questi, è una decisione giusta da prendere. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, io personalmente la trovo una cosa un po' sciocca, anche perché i problemi sono ben alti, affondano in radici prettamente culturali, non solo degli Stati Uniti, ma di tutte quante le nazioni, sia occidentali che orientali, quindi il razzismo, lo schiavismo, lo schiavismo c'è sempre stato, il razzismo c'è sempre stato, ed è una questione puramente culturale, che andrebbe, diciamo così, curata con l'educazione fin dall'infanzia, ma non facendo queste cose. Comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. L'ultima notizia riguarda Google, che compie un ulteriore passo per rendere Chrome OS sempre più completo e adatto a tutti i tipi di utenti. Google sta infatti collaborando con Parallels per portare Microsoft Office ed altre applicazioni Windows su Chrome OS. Grazie a queste collaborazioni, con i frutti si vedranno a partire dal prossimo turno per i clienti di Chrome Enterprise, le applicazioni Windows verranno virtualizzate su Chrome OS e potranno essere utilizzate come se fossero delle applicazioni native. Parallels Desktop verrà integrato su Chrome OS e questo ha tutto vantaggio delle prestazioni, perché non ci sarà un calo enorme delle prestazioni su Chrome OS e ci sarà la possibilità per gli utenti, prima per gli utenti aziendali, poi si ispira anche per tutti quanti gli altri utenti di Chrome OS, di poter praticamente far eseguire qualsiasi tipo di applicazioni su Chrome OS, perché sapete bene che Chrome OS supporta le applicazioni Android, supporta le applicazioni Linux e, con l'inclusione anche delle applicazioni Windows, praticamente potrete installarci qualsiasi cosa, diventa un sistema operativo universale, nel senso che consenterà di installare praticamente ogni tipo di applicazione. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, alcuni si sono detti critici su questa scelta, perché spingere su questa soluzione? Sapete che non è semplice proporre soluzioni cloud in realtà aziendali e moltissimi utenti, soprattutto aziendali, necessitano di suite proprietaria, suite Microsoft Office e hanno magari anche la necessità di poter lavorare offline e far risiedere i file all'interno del proprio computer senza caricare in cloud per motivi di privacy e quant'altro, quindi secondo me vai in quest'ottica. Non dobbiamo pensare sempre al fatto, eh ma comunque c'è la possibilità di utilizzare Microsoft Office con Office 365 online, perché per funzionare Office 365 online necessita il caricamento dei file all'interno dello spazio cloud di Microsoft, quindi sapete, ripeto, ci sono realtà aziendali che vietano l'utilizzo di servizi cloud di terze parti per poter caricare i file per questioni di sicurezza e quant'altro, quindi non dobbiamo ragionare nella nostra ottica, ma dobbiamo ragionare in un'ottica più grande, perché ci sono tantissime esigenze diverse da parte delle persone. Comunque, bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!